ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo video è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata al di fuori di questa abitazione la telecamera oltre a riprendere un po la strada e il quartiere riprende anche una casa disabitata e sembra che a una certora della notte precisamente alle 5 e 18 la telecamera cattura una strana ombra nera muoversi vicino all'abitazione disabitata il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento una ragazza di nome elania stava provando la telecamera del suo telefono durante la registrazione la ragazza oltre a riprendere due suoi amici riprende anche una strana ombra oscura sembra nascondersi rimanendo ferma immobile ad osservare i ragazzi il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento questa foto è stata scattata da una donna di nome betty riviz la donna era intenta a fare una videochiamata con una sua amica quando ad un certo punto incomincia ad avere la sensazione di essere osservata non sapendo cosa fare decide di scattare qualche foto rivedendo le foto la donna si accorge che su una foto rimane impresso il volto di una donna dai capelli lunghi con un viso davvero strano in un ranch una telecamera di sicurezza riprende a entrare una strana creatura che terrorizza tutti gli animali inducendoli a fuggir via dal recinto il video è davvero incredibile questo è ciò che è stato filmato il prossimo filmato mostra delle immagini riprese da un paziente di questo ospedale durante la registrazione l'uomo riprende anche uno spirito che sembra affacciarsi sulla soglia di una porta di una stanza il video è davvero incredibile questo è ciò che è stato filmato qui stiamo soli si sento la vibra si sento la vibra chido poi allà poi già fu il pedazzo che hicimos il prossimo filmato mostra una giovane coppia mentre stanno cenando ad un certo punto la coppia incomincia ad udire degli strani lamenti provenire al di fuori di casa loro le urla sono davvero inquietanti ma andiamo a guardare il documento e le urla sono davvero attenzione le urlano questo è un lavoro... una famiglia che carica dei video su tiktok ha caricato questo filmato dove viene mostrato uno dei tanti fenomeni paranormali che accadrebbero in casa loro il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento qui si è fondata e chiaro a ver oh che è dios mio me cago in la lecce ai madre mia e questo è lo che mi faltava per oggi por favor voy a incendere la luci qui serio serio è che questo si è muovito a me ostia vai por favor vai e anche per oggi è tutto ragazzi il video finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao